Tra la giornata di ieri e questa notte, alcuni temporali a supercella, quindi con una corrente ascensionale in rotazione, hanno scaricato grandine di dimensioni gigantesche su svariate zone del nord. Il chicco più grande, anche se si fa fatica a chiamarlo chicco, è stato misurato ad Alzano X, in provincia di Pordenone, ed era di circa 20 cm di diametro, con un peso che probabilmente si avvicinava al chilogrammo. Questo chicco batte il record che risale ad appena il 19 di luglio di 16 cm in provincia di Padova. Com'è possibile però che si formino chicchi di grandine di queste dimensioni? Grandine di questo tipo deve essere sostenuta all'interno della nube temporalesca da correnti ascensionali estremamente forti e questo è dovuto soprattutto alla presenza di aria molto calda e molto umida nei bassi strati. Quest'aria ovviamente è presente per l'anticiclone africano che abbiamo avuto e al sud Italia stiamo ancora avendo per più di una settimana che ha portato molta umidità e molto calore soprattutto sulla pianura padana che poi è stata quella colpita da questi temporali molto violenti. Questa massa d'aria è il carburante di cui hanno bisogno i temporali per la convezione, quindi più è presente una massa d'aria calda e umida nei bassi strati più le correnti ascendenti saranno intense. Oltre a questo la grandine per crescere così tanto di dimensioni ha bisogno anche di una particolare disposizione dei venti alle alte quote. Se in quota quindi all'altezza di più o meno 5000 metri c'è un vento molto forte, correnti molto tese, queste favoriranno le correnti ascensionali e quindi aiuteranno i chicchi a crescere di dimensione. Ultimo ingrediente che permette questo è la rotazione dei sistemi temporaleschi perché questo permette al chicco di ruotare all'interno del cumulonembo e quindi di rimanere nella zona in cui i nuclei di grandine da piccoli diventano via via sempre più grossi per più tempo e quindi diventare di dimensioni sempre maggiori. Tutte queste condizioni erano presenti non solo nella giornata di ieri ma generalmente in pianura padana negli ultimi 4-5 giorni abbiamo sempre avuto condizioni favorevoli a grandine grossa. Infatti ci sono stati non solo nella giornata di ieri ma anche nelle giornate precedenti diversi episodi di queste grandinate rovinose che hanno colpito gran parte della pianura. Nel caso specifico però del chicco record di ieri sera nel Pordenonese è avvenuto un fenomeno che spesso accade ma in dimensioni minori. c'è stata l'unione all'interno della nube di due o più diversi chicchi di grosse dimensioni. Questo può succedere spesso accade con l'unione di chicchi più piccoli che vanno a formare i chicchi più grandi che poi cadono al suolo. Le correnti ascensionali e l'energia ieri erano talmente elevate da permettere la fusione all'interno della nube di più chicchi già cresciuti già di dimensioni grosse e questo ha dato origine a questo chicco o a questi chicchi che sfioravano o superavano in alcuni casi i 20 centimetri.